Musica E' tutto ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft insieme a Michele0707 Hola Scusate se siamo in una partita già iniziata del Project Areas E che ho già provato a registrare una partita solamente Che non avevo più spazio nel mio disco fisso e quindi non ho potuto registrare Quindi questo video sarà abbastanza breve Perché dovrò togliere qualcosa Ehm praticamente riassumendo abbiamo fatto tre partite Io ho fatto due kills mamma mia Sono un pro player si lo so Wow Grazie grazie applausi applausi Ehm Canale di Michele Com'è che fanno con Pimmi questi Oh grazie Oh No Ma che cavolo No Michele 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 No scappa con il lag Scappa Fuggi da Foggia Fuggi da Foggia Fuggi Fuggi da Foggia Fuggi 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 Poi dentro questo qua E mangia Ci credo Sono salvato Ma morici tu Eh sono morto io Bene Bello Comunque per riassumere Siamo nei progetti È morto Sì vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Top Io non voglio Tanto muoio subito Quindi Comunque Praticamente in questi Project Arias È solo PvP All'ennesima potenza Non ci posso credere E anche il lag All'ennesima potenza Per Michele E vabbè Questo Spamma qua Allo spawn Ti si è stabilito Oppure no Più o meno Bene bene Perché non volevo Avere in partita Sicuramente non come prima Si è stabilizzato Ma morici Ho sbagliato il tasto Cioè il tasto no Però Cosa stai lì a tankare Scemo Che bello Quando arriva il lag Aspetta Provo a mettere La Devo setting Un po' Eh Cioè l'avevo a 17 Grazie al cavolo Cosa Adesso l'agga un po' Di meno Cosa mi chiedevi a 17 La chunk rendering E allora Come ti lamenti Il servo Però L'agga comunque Cioè Questo non lo dico di no Ho trovato quasi Una full armatura In ferro Così a caso L'agga comunque Ho scudo Come è possibile Ho trovato lo scudo Bello Così posso pararmi Che bello Ma posso fare due cose insieme Tipo Mori No non ci credo Ciao Ma che cavolo Alla lana Ma mori Mori Vuoi morire Ma che cavolo Ah sta frecciando Quello che sto frecciando No vabbè Sto logando Ma morici No Sto frecciando da dietro Viva gli italiani Ma l'affembrano E' l'affembrano E' buonanotte Io intanto Mi faccio pubblicità Io sto Rec Visita Basta Così Sto Rec Visitate Vuol dire niente Il Mio Canale Youtube Si Chiama Come Me Me Andreas Viva la pubblicità Ok Possiamo continuare adesso Andrei Gay Io non sono gay Mi scrivono ok Grandi che scrivete ok Che mi scrivete Grandi Oia Mi chiamano Poi Beppe Così si fa Questa la censuro Perché non devono sapere Che cosa si chiama Sto tizio Oh la ciuoni That way What you say Oddio Oh mio dio Che shot Ho fatto Scusate per Le urla Da dietro Che bello Che tradimento Signori Che tradimento Ma che Tradimento è vero Tradimento is the way Attacco Ah no Ha scritto giusto Ed è un po' che non vedo gente Che scrive male Oltre a me E te Michele Io scrivo benissimo Sì in realtà Anch'io Tu scrivi male Non è vero Non metti nemmeno la maiuscola all'inizio Non è vero Sì che lo faccio Mori 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 No Adesso dimostro subito Che nel Che nel Messaggio che hai mandato Non l'hai messa Quale messaggio Vabbè Ma qua non lo scrivo Però nei titoli dei video Adesso li metto E Certo Blu e un rosso Fanno team Ah cos'è sta mafia Eh What you say Ma ci sei All'altro Non ci sei Non ci sei All'altro Non ci sei All'altro Smettere di drogarti pesantemente Inizia a lavorare Zappando la vigna Capito? Eh Hai capito Che devi iniziare a lavorare Zappando la vigna? Sì che cadi Creppy No va beh Non ci credo Ma poi Nella vita reale Papa 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 Fuffei Cosa fanno quelli? C'avete un piccore! Cosa scavate così a mano? Ciao! E vabbè, hanno fatto pulire le scale solo per perdere il tempo. No, vaffanbro, ti sto trollando, amico, non è giusto. Tu non devi trollare. Tu che trolli le persone è come Maurizio Costanzo che gioca a calcio. Maurizio Costanzo è bravo a calcio. Ah, certo. È la maradona dei tempi del 60. Sì, quando ancora non si fumava. Non fumava, per fortuna. Ma che... Questo è fissato con Maradona che si droga comunque. È vero comunque che Maradona fuma. Droghi male. Io mi drogo male, no, lui. Oh, la ci uoni, dead way. Vedi tu sei fissato con i gay che canta sta canzone. Con i gay. Alzi la mano. Eh? Che gay alzi la mano. Tu l'hai alzata. In realtà no, però. Sì, sono a casa tua. Ho una telecamera segreta. Brutto schifo. Lezzo. Lezzo. No, lezzo. Ma che cavolo. Ma non è possibile. Eh sì, quello dici ma che cavolo. Non è possibile comunque. Sì, è signori Fabio. Noi dobbiamo cercare di prendere la loro lana. Non fare ste cavolate in realtà. Ma sì, chi se ne frega. Un po' una partita strana diciamo. Una partita strange. Ma che cavolo. Vabbè. No. Tipo spambo schifoso. Sì, ma dai, non si può laggare così. Io esco dal suo server, addio. Fai schifo. Ah, finalmente un po' di Cubecraft dove non lagga almeno. Mamma mia. Vabbè signori, adesso siamo sentati a che... Oh, ma ci vuoi l'idea. Sì, ma io vi parlerò come Gesù. Ma cosa c'entra Gesù? Ma solo cosa c'entra? Vi parlerò come la cacca. Adesso stai dicendo che Gesù è... Vabbè. Ma cosa? Tu sei strana. Perché? Tu l'hai appena detto. No, ho detto perché la cacca è bella. Ma la cacca non è bella. Ma perché... Se hai piaciuto la cacca e hai dei problemi, lo sai, è vero. Sì, può essere. Ah, what? Ma che cavolo? Mori? Ma, 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 ma... Ma va... Allora, Andrea, stai calmo. Da voi c'era il terremoto. Eh sì, eh sì, eh sì. Boh, non ne ho idea. Da me sì. Io ero a liceo, fratelli, che stavo... Sto... Sto... Altro che stare lì a parlare... La geofisica. Ma mori! Saluto, Antonio. Ho trovato due infiltrati che stanno... Che ci stanno... Saluto, Antonio. Che ci stanno rubando. Esco con i miei amici. Saluto, Antonio. No, sono andati. Sono andati, sono andati. Nooo! Cosa stai facendo? Che cos'è? Ma comunque, ragazzi, questo video, io credo sia tutto. E noi ci vediamo al prossimo. Sì, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo. Ma ragazzi... Grazie a tutti